Martedì 18 febbraio, investire in 90 secondi, oggi ci farebbero 90 minuti, è successo di tutto in mattinata abbiamo fatto una prima ora e mezza pazzesca, sono riuscito a registrare solo adesso perché chiaramente queste sono le giornate in cui si fa la differenza, un occhio attento vede anzitutto che ho spostato il time frame a un minuto sui titoli bancari, perché? Perché la storia ormai nota, offerta di Intesa San Paolo su Bibanca è successo l'impossibile, magari avere giornate così volatili sarebbe veramente una festa e sostanzialmente i bancari hanno strappato, Ubi partita forte, adesso è sui minimi in sospensione, BPM sta cercando una base BPM l'ho shortata presto e adesso sta consolidando, insomma una mattinata veramente difficile da ridurre in pochi minuti che cosa seguo dopo questa, insomma ho fatto tante operazioni stamane, ho fatto fra l'altro uno short sul future vado overnight, ti dico il prezzo 25-140 short multi-day, secondo me da quasi di traccia per ora ho torto, in questi ultimi giorni non sono stato molto in feeling col mercato ma riprovo uno short di Fib 25-140 il prezzo occhio a Campari, tra poco dai risultati, occhio a Pirelli a domani, ho sforato e ci vediamo domani